Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questa nuova teoria Pokémon. Quest'oggi ragazzi parleremo di Meltan, il nuovo Pokémon annunciato, l'ultimo Pokémon annunciato da Nintendo tramite vari trailer sul canale YouTube ufficiale e che ha mandato in subuglio l'intera community che già si è prodigata per creare un sacco di teorie riguardo a questo piccolo Pokémon. Ora prima di iniziare con questa teoria occorre mettere un paletto fondamentale che sosterrà l'intero sistema della teoria stessa. Il presupposto è che Meltan è un Pokémon di settima generazione e quando lo dico con questa certezza è perché sono convinto profondamente che lo sia anche grazie al video di Pokémon Millennium di qualche tempo fa che comunque vi linkerò in descrizione in cui magistralmente viene spiegato il motivo per cui Meltan sia un Pokémon di settima generazione e non di ottava come si è pensato recentemente. Inoltre ragazzi vi ricordo che in descrizione troverete tutte le fonti della teoria in maniera tale che anche voi possiate farvi una vostra opinione sullo stesso materiale che ho utilizzato io. Detto ciò, posto che Meltan è un Pokémon di settima generazione, ho pensato a primo acchito appena ho visto il Pokémon di andare a indagare sulla sua provenienza in un campo che è caratteristico della settima generazione e che ha favorito la creazione di vari design e di vari Pokémon ispirati proprio a quel campo stesso. Per chi ha la memoria più ferrea sto parlando dell'alchimia, una materia, una scienza occulta, nata all'inizio del Rinascimento e che nelle teorie Pokémon ha avuto moltissima fortuna soprattutto per le teorie che riguardavano le varie sfaccettature della regione di Alola. Ora però Meltan, che cosa c'entra con l'alchimia in sé? Siamo proprio qui per spiegarlo e infatti in questo video andremo ad analizzare il design di Meltan andando a metterne in rilevanza le forti componenti alchemiche che lo compongono. Partiamo dall'anello esagonale dal dado di bullone che Meltan riporta sulla parte più alta del suo corpo e all'interno del quale vi è l'occhio del Pokémon stesso. Dietro di me, se il green screen non fa scherzi, dovreste vedere un simbolo molto particolare. Sto parlando del sigillo di Salomone. Il sigillo di Salomone è un simbolo alchemico molto importante con tantissimi significati dietro che adesso andremo, fra parentesi, ad analizzare e che come potete vedere rappresenta quasi alla perfezione il design che possiede anche Meltan. Il sigillo di Salomone non è altro che l'unione degli opposti, è l'unione di due triangoli che rappresentano uno i materiali che sono tendenti verso l'alto e quindi il fuoco e l'aria, l'altro i materiali che invece tendono verso il basso che sono la terra e l'acqua. La scelta dei materiali non è casuale perché deriva dalla fisica aristotelica che è nata nella classicità proprio come teoria fondamentale della composizione della materia. Come potete benissimo vedere, i due triangoli generano al loro interno un esagono che quando è caratterizzato da un pallino al centro non solo rappresenta cose assurde tipo l'illuminazione divina e tutte queste leggende che girano attorno al sigillo di Salomone ma rappresenta anche il geroglipico della pietra filosofale. Ora però per andare a giustificare quella che è semplicemente una somiglianza tra un design e un altro dobbiamo andare a prendere un aspetto particolare che ci è stato mostrato nel secondo trailer dedicato alla campagna marketing di Meltan. Sto parlando della scatola che è stata rinvenuta nello stesso luogo in cui è stato trovato il documento che attesta l'esistenza di Meltan e che è composta come potete vedere da due particolari luci a led. Queste luci a led sono di colore rosso e blu e se ad un primo acchito chiunque le ha interpretate magari come un citazionismo ai primi giochi della serie in realtà penso che non sia così. Nel linguaggio alchemico il rosso e blu significano due cose prevalentemente una è la metamorfosi e ci tornerà utile dopo l'altra è l'unione degli opposti. Il collegamento però tra i colori rosso e blu e la figura di Meltan a parte la scatola è ritrovabile anche nella sua forma shiny che per l'appunto presenta la coda anziché rossa blu e tra l'altro la forma shiny ci tornerà più utile anche dopo per andare a evidenziare un altro aspetto molto particolare del Pokémon. A proposito della coda di Meltan c'è da fare una piccola divagazione di stampo storico. Se Meltan è un Pokémon antico come possiamo andare a spiegare il fatto che presenti una coda che è simile ad un cavo elettrico che sicuramente nell'antichità non c'era? La spiegazione può essere fornita tranquillamente da un personaggio di Kalos ossia Azeta. Questo personaggio un gigante alto più di 3 metri è in grado 3000 anni prima degli eventi di Kalos e quindi in un'epoca remotissima di generare una macchina in grado di ridare la vita ai Pokémon e di toglierla allo stesso tempo. Insomma una tecnologia che di certo 3000 anni prima della nostra epoca attuale non era di certo pensabile. Stiamo parlando dunque di una civiltà antica che avrebbe generato Meltan e che è testimoniata in tantissimi passaggi all'interno di Pokédex e robe varie ma anche qui vi linko al video di Pokémon Millennium, un altro video di Pokémon Millennium in realtà in descrizione riguardo a questi particolari riferimenti a questa presunta civiltà. Tornando alla nostra civiltà è plausibile vista la creazione dell'arma suprema di Azeta che fossero già a conoscenza dell'elettricità e dunque se poniamo Meltan come creazione di questa stessa civiltà la coda che è un cavo elettrico e che nell'antichità non avrebbe senso ci torna decisamente meglio. Peraltro la scatola che troviamo che sembra essere uno strumento particolarmente tecnologico è stata rinvenuta nello stesso luogo in cui è stata rinvenuta la pergamena il che sarebbe un controsenso visto che la pergamena è un oggetto molto antico la scatola è un oggetto decisamente più tecnologico e quindi ci sarebbe un problema a livello di tempistiche quindi l'unica soluzione è pensare che Meltan sia stato creato da un'altra civiltà che ha avuto il potere e la tecnologia di andare a creare un elemento molto simile alla pietra filosofale non solo molto simile per l'aspetto ma anche per i poteri di cui Ace dispone e che adesso andremo ad analizzare. Prima di proseguire con l'analisi del design di Meltan passando per la parte sottostante all'esagono e al dado esagonale occorre fare una piccola precisazione Ora è chiaro che il dado esagonale sopra Meltan è una scelta di design molto caratteristica in particolare è caratteristico e totalmente insensato a prima vista il colore di questo dado paradossalmente nella forma shiny che già prima vi citavo ha molto più senso il colore del dado stesso che è un colore simile al rame che è un elemento e un materiale di cui i dadi dei bulloni erano effettivamente fatti ma un bullone d'oro perché? Una scelta di design che potrebbe essere insensata ad un primo occhio in realtà se andiamo a considerare i poteri della pietra filosofale di cui abbiamo parlato prima e con la quale abbiamo connesso Meltan stesso non è così insensata oltre al potere medico della pietra filosofale che andremo a riprendere più avanti che sarà fondamento della teoria un altro dei poteri della pietra filosofale è quello di trasmutare ogni tipo di materiale nell'oro ecco dunque che si spiega perché un dado che dovrebbe essere di un materiale più simile al rame come possiamo vedere nella forma shiny di Meltan è in realtà rappresentato in forma dorata il dado esagonale che abbiamo in Meltan racchiude in sé due concetti fondamentali il primo è il simbolo della pietra filosofale e dunque la pietra filosofale stessa il secondo è l'effetto o uno degli effetti che questa pietra filosofale ha sul mondo circostante in questo caso la trasmutazione dei materiali in oro che ci tornerà molto utile anche più avanti nella teoria tra l'altro l'occhio di Meltan che ricorda a sua volta una pietra e che anzi è esso stesso la pietra filosofale non è neanche esso casuale in generale in tutte le civiltà umane l'occhio simbolicamente rappresenta una sorta di divinità per farvi un esempio nei geroglifici egiziani la presenza dell'occhio è legata alle divinità osiride ed iside che rappresentano effettivamente la vita dopo la morte allo stesso tempo la pietra filosofale permette secondo le varie credenze di raggiungere l'illuminazione e l'illuminazione il trascendere dalle forme reali della conoscenza per accedere a un piano superiore della conoscenza stessa è rappresentata proprio dal simbolo dell'occhio il fatto che il pallino al centro che rappresenta l'essenza stessa della pietra filosofale abbia e sia anche l'occhio di Melton è un'unione anch'esso di concetti che unisce alla pietra filosofale la facoltà cognitiva e la facoltà di essere vivente ora passiamo ad analizzare la seconda parte del design di Melton che è la parte gelatinosa sottostante che è stata ricondotta da moltissimi me compreso a un ditto abbiamo già detto che per creare la pietra filosofale è necessario creare il sigillo di Salomone che si crea tramite l'unione degli opposti e quindi rappresentati dai colori rosso e blu che vediamo nella scatola del trailer dedicato a Melton quello che ho messo in realtà è che non basta solo il sigillo di Salomone per creare la pietra filosofale è richiesta infatti un'altra sostanza in grado di cristallizzare la stessa pietra e di darle una forma effettiva questa sostanza è Azoth una sostanza che ha riscosso una popolarità incredibile nell'ambito delle teorie Pokémon e che è una sostanza alchemica molto particolare di cui parleremo approfonditamente tra poco occorre prima però fare una piccola divagazione prettamente alchemica l'alchimia nasce tra il 1300 e il 1400 come contrasto ai saperi tradizionali e uno dei più grandi alchimisti ossia Paracelso definisce Azoth come mercurio liquido Paracelso per intenderci non è uno scappato di casa ma è stato in grado grazie al potere dell'alchimia di lenire gli effetti di una malattia come la Sifilide la parte interessante di tutto ciò è che il più grande alchimista ha associato Azoth al mercurio liquido che come possiamo rinvenire in un altro trailer dedicato a Melton è la stessa composizione del corpo del Pokémon l'associazione tra Azoth e Meltan o meglio la parte sottostante di Meltan sembra molto 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 incisiva ma ci sono altri elementi che collegherebbero Azoth non solo a Meltan ma addirittura pensate un po' a ditto abbiamo detto gli effetti di Azoth abbiamo detto che materiale è Azoth ma non abbiamo detto qual è il potere alchemico di questa sostanza Azoth nel mondo alchemico è conosciuto anche come solvente universale in poche parole è una sostanza che è in grado di assumere la forma di qualsiasi altra sostanza di qualsiasi altro minerale presente sulla faccia della terra forse a qualcuno è scattata già una lampadina ma prendiamo adesso ditto ditto non è come molti pensano solo la base genetica di tutti i Pokémon ma pare essere e lo sto sostenendo in virtù di una descrizione del Pokédex la base di ogni materiale esistente sulla faccia della terra nel mondo Pokémon o meglio ditto sembra essere in grado di trasformarsi in minerali la descrizione del Pokédex di ditto di Pokémon oro e argento ci dice per l'appunto che questo Pokémon è in grado di tramutarsi in pietra per passare in denne la notte sempre collegandoci a Pokémon oro e argento ditto doveva avere un'evoluzione di tipo metallo non solo ma questa evoluzione si chiamava Animon e si sarebbe evoluta grazie alla metal coperta nel mondo alchemico e nel mondo medievale in generale l'anima è ciò che costituisce la vita effettiva tanto che in italiano il verbo animare vuol dire letteralmente dare la vita è un po' come se tramite Animon si sia voluto mostrare e poi successivamente cancellare dal mondo Pokémon come ditto tramite la metal coperta riuscisse a ottenere una sua vera identità e una sua effettiva vita dunque abbiamo visto che ditto come Azoth è legato alla trasmutazione dei materiali abbiamo visto anche come ditto sia legato al mercurio e ai metalli in generale che sono a loro volta legati con Azoth la conclusione definitiva sarebbe che ditto non è altro che un tentativo fatto in laboratorio di riprodurre Azoth come sostanza c'è però un altro particolare che lega indissolubilmente Meltan al concetto di metamorfosi e quindi a ditto e Azoth allo stesso tempo ricordate ad inizio teoria che vi dicevo che il rosso e il blu rappresentano due cose particolari la seconda che vi ho detto era l'unione degli opposti ma la prima pensate un po' era la metamorfosi esattamente come Azoth ditto è in grado di trasformarsi e di dare forma a qualsiasi materia esistente il che mi porta a pensare essendo Azoth una sostanza antica e ditto recente che ditto non sia altro che un tentativo di replicare Meltan ma in questo momento stiamo sconfinando leggermente in quella seconda parte della teoria che sarà un po' più suggestiva in cui andremo a parlare della possibile trama o del possibile cameo di Meltan all'interno di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee per ora limitiamoci un attimo a ricapitolare tutto ciò che è stato detto fino adesso abbiamo detto che Meltan rappresenta ed è a sua volta la pietra filosofale tramite il sigillo di Salomone che porta nel suo design che è un Pokémon generato da una civiltà antica e che uno dei suoi poteri più grandi insieme al potere della pietra filosofale sia quello di donare la vita ma la pietra filosofale per essere prodotta necessita oltre che il sigillo di Salomone e l'unione degli opposti di Azoth Azoth è ditto o meglio secondo la Conseguzio Temporus ditto è Azoth una sostanza alla base di tutte le altre sostanze esistenti nel mondo in grado tra l'altro di trasmutare in qualsiasi altro materiale o essere vivente presente all'interno del mondo una sostanza che è alchemicamente identificata col Mercurio che è guarda caso lo stesso materiale di cui è fatto Meltan stesso e che è legato intrinsecamente a ditto tramite la sua presunta evoluzione di seconda generazione ossia Animon che ha la radice della parola Anima che significa vita e che è una evoluzione del Pokémon di tipo metallo dunque concludiamo che Meltan è stato generato da una civiltà antica che è stata in grado di generare il corrispettivo nel mondo Pokémon della pietra filosofale e che ha automaticamente gli stessi poteri della pietra filosofale tra gli altri oltre alla trasmutazione dei metalli di cui abbiamo già parlato quello di ridare la vita a ciò che è morto e in generale di creare la vita stessa la mia vita è stata in grado da' dell'intera teoria che abbiamo portato fino ad adesso andiamo invece in questo momento a parlare del ruolo che potrebbe avere Meltan in un'ipotetica trama di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Ora dobbiamo partire chiaramente dal presupposto che Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee partono come trama di base dal Pokémon giallo di vent'anni fa quindi non possiamo aspettarci un Meltan che sconvolge completamente il mondo Pokémon così come lo conosciamo. Quello che possiamo aspettarci e che possiamo augurarci è invece un cameo di Meltan particolare che sfrutti queste caratteristiche di cui abbiamo parlato. Andiamo dunque a vedere come potremmo inserire Meltan all'interno della trama o in generale dell'accanto che conosciamo e dall'accanto che avremo in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Abbiamo detto che Meltan è la pietra filosofale abbiamo anche detto che uno dei poteri più importanti della pietra filosofale è quello di donare la vita. Abbiamo parlato anche di come Paracels il primo grande alchimista abbia utilizzato l'alchimia non per fini di lucro come la trasmutazione dei metalli ma per andare a rifondare la scolastica e i saperi tradizionali che c'erano nel Medioevo. In particolare Paracelso riforma quelle che sono le tradizioni della medicina grazie alle pratiche alchemiche. Da qui deduciamo l'importanza medica che aveva l'alchimia all'interno della cultura. Proprio come la pietra filosofale presente in Harry Potter che tutti conoscerete che ridarebbe a Voldemort una vita effettiva dopo che questi si ritrovano in una condizione parasitaria e quindi di vita non vita. Insomma la pietra filosofale è soprattutto legata alla medicina e legata al suo potere presunto di ridare la vita a ciò che è morto. Ora noi sappiamo anche che Meltan però è legato a Ditto. Non solo ma abbiamo detto prima di iniziare con questa parte che Ditto in virtù del suo essere più recente di Meltan è probabilmente un tentativo di replicare quella sostanza che ha permesso poi la creazione di Meltan a questa ipotetica civiltà antica e superiore a noi. Sappiamo anche che il creatore di Ditto è il Dottor Fuji che è un personaggio al soldo del Team Rocket che ha lavorato alla ricerca di Mewtwo e al clonaggio di Mew e che come risultati di scarto ha più volte ottenuto dei Ditto che infatti in questo momento si possono trovare solo all'interno del suo vecchio laboratorio ossia la villa pokemon dell'isola cannella. Ma il Dottor Fuji ha una storia anche personale infatti il suo intento è quello di utilizzare la tecnologia che otterrà dalla clonazione di Mewtwo per andare a sua volta a clonare la figlia che purtroppo è deceduta. Ora dopo aver detto tutte queste cose qua mettiamo assieme tutti i puntini. Noi siamo abituati a credere che Ditto sia un esperimento fallito e che derivi da Mew che guarda caso è la base di tutti i pokemon esistenti. Ma se in realtà in questa nuova dimensione di Kanto l'esperimento del Dottor Fuji non sia fallito nei Ditto ma anzi sia stato un secondo esperimento volto a ricreare una sostanza che sarebbe stata in grado di generare un pokemon che sarebbe stato in grado a sua volta non di clonare la figlia del Dottor Fuji ma di riportarla letteralmente in vita. Arrivati nell'epoca contemporanea l'uomo è riuscito a raggiungere in un certo senso la stessa tecnologia che aveva permesso alla civiltà di AZ di creare Meltan. I documenti sono finiti in mano al Dottor Fuji che in virtù di un suo puro interesse personale e sentimentale quello di riportare in vita sua figlia ha tentato sfruttando la tecnologia messa a disposizione del Team Rocket di ottenere qualcosa in più per andare a ricreare Meltan e dunque andare a riportare in vita letteralmente sua figlia. Da qui con questa ipotetica trama si potrebbe anche trarre una fantastica caratterizzazione di un personaggio che è sempre stato snobbato nell'ambito videoludico che per un mero interesse personale e sentimentale è spinto addirittura a collaborare con un'associazione malvagia per potersi in padronina di una tecnologia e per poter generare un progetto ambizioso per creare un Pokémon antico che ora non si sa come sia possibile creare perché appartenente a un'altra civiltà e che avrebbe il potere della pietra filosofale di riportare in vita la figlia che è deceduta. In tutto ciò che abbiamo detto che cosa mi aspetto però da Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee? Chiaramente come già detto non ci si può aspettare da questi giochi grandi rivoluzioni di trama e soprattutto credo che non ci si possa aspettare qualcosa che vada a incidere troppo su dei fattori che magari i bambini che acquistano il gioco potrebbero non capire o per i quali potrebbero rimanere in un qualche modo traumatizzati. Però ritengo che qualcosa riguardo a Meltan in virtù della teoria che abbia fatto fino adesso si possa comunque fare all'interno comunque del cerchio di trama già disegnato dalla prima generazione. Ad esempio una cosa che io mi auguro e che spero che succeda è vedere all'interno della villa Pokémon dei riferimenti molto 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 espliciti all'esperimento secondario o primario a seconda dei punti di vista del dottor Fuji che tentava per l'appunto di ricreare Meltan. Quindi insieme ai documenti che attestano canonicamente come abbiamo già visto in prima generazione l'esperimento per la clonazione di Mew e per la creazione conseguente di Mewtwo vorrei vedere questi documenti che invece attestano il secondo esperimento di creazione di Meltan. Magari in un'altra stanza introdotta nella villa Pokémon in questa canto alternativa o ancora meglio sostituiti letteralmente i documenti che parlano della creazione di Mewtwo con dei diari personali del dottor Fuji che vanno invece a puntare il dito contro questo aspetto secondario se vogliamo occulto del professore. Sarebbe un qualcosa che potrebbe essere secondo me una buona integrazione del concept di Meltan all'interno della trama e allo stesso tempo non invasiva rispetto alla trama generale e che non vada troppo a ledere il principio della prima generazione. Che poi sia chiaro io lo lederei volentieri creando un'altra trama però non sembra essere questa l'intenzione dei programmatori e quindi dobbiamo cercare di essere il più realisti possibile. Tra parentesi questa clip qua la sto registrando due giorni dopo il resto della teoria perché mi ero dimenticato di registrarla. Grande clip. Certo è chiaro che sarebbe fantastico vedere un ipotetico cameo del genere ma purtroppo siamo fin troppo male abituati per crederci. Insomma sappiamo tutti come certi poco misteriosi dalla grande caratterizzazione purtroppo finiscano nel dimenticatoio eppure forse con Meltan una speranza c'è. Perché Meltan signori non lo otterremo come dono segreto ma lo otterremo con una quest molto particolare e quindi io sono fiducioso a parte che la mia teoria abbia senso ma che Meltan possa ottenere un cameo all'interno dei titoli che sia in grado di valorizzarne veramente le qualità. E tutto sommato mi auguro che queste qualità siano quelle che ho descritto in questa teoria. Detto ciò io spero che questo video vi sia piaciuto e che a parte per l'ipotetica veridicità questo video vi abbia fatto viaggiare e vi abbia trasmesso delle emozioni particolari alla spiegazione di una teoria dietro a quello che poi tutto sommato non è altro che un pokemon. Prendendo in prestito e parafrasando le parole di pokemon millennium non siamo qua per ricercare la verità assoluta anche perché ricercarla su dei pokemon è una cosa abbastanza inutile siamo qua per fare dell'intrattenimento e quindi spero che a parte per la questione della veridicità in sé della teoria che viene dopo questo video vi abbia strappato un'emozione un sussulto un sorriso e qualsiasi altra cosa che possa aver scosso in qualche modo il vostro animo. Dunque se è così vi invito a lasciare un bel mi piace un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti in particolare vi consiglio il commento perché avete anche le fonti in descrizione e potrete sicuramente avere se volete delle argomentazioni valide per andare ad arricchire questo video anche nella sezione commenti. Vi invito inoltre a passare dai social in particolare da instagram e da twitch e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed del canale detto già ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video A presto! A presto!